Una foto di padre Vincenzo Scuderi posta vicino all'altare durante la celebrazione eucaristica delle 18 ha permesso di ricordare la sua figura proprio il 22 novembre, giorno della sua scomparsa nel 1982. Un momento di grande commozione per tutta la parrocchia del Sacro Cuore che si prepara intanto a celebrare i suoi primi 70 anni di vita. A partire dal 29 settembre 2023 verranno organizzati infatti diversi eventi che ricorderanno sia la nascita della parrocchia e dell'oratorio che proprio la figura di Don Scuderi. Tra le iniziative in programma anche una pubblicazione che raccoglie la storia della parrocchia a fine giorni d'oggi, curata dal parroco Salvatore Rumeo, da Giussi Di Raimondo e Giulia Bonelli, con contributi fotografici e anche testimonianze dirette di alcuni parrocchiani. 22 novembre 2022 sono già trascorsi 40 anni dalla morte del compiando e amatissimo Don Vincenzo Scuderi che tutti i nisseni ricordano e portano nel cuore. È stato un grande uomo, un grande sacerdote, un grande accompagnatore dei giovani. Vogliamo ricordarlo perché è bene ricordare l'esempio dei grandi testimoni e dei grandi uomini. È rimasto a Caltanissetta per nove anni ma in questi nove anni Don Scuderi riuscì a mettere sopra la città di Caltanissetta. Non solo perché attirava qui all'oratorio molti giovani ma perché diventò compagno delle famiglie, compagno dei poveri. Lui partiva dall'unico grande ideale della sua vita, Cristo crocifisso. Quando in quel lontano 29 settembre del 1953, quasi 70 anni fa, arrivò a Caltanissetta, dalla sua valigia prese Cristo crocifisso. È proprio a Cristo crocifisso che volle consacrare questo oratorio. Per anche la lungimiranza profetica di Monsignor Giovanni Iacono che volle donare alla famiglia salesiana il suo villino. Laddove in estate lui si recava per trascorrere con gli insegnanti del seminario le ferie estive.